Nella notte tra sabato 20 e domenica 21 luglio a Chieri, i carabinieri della stazione di Poirino hanno bloccato in tempo un uomo trovato con un coltello ancora in mano fuori dall'abitazione dell'ex moglie. E' stata quest'ultima che dà aiuto disperata al 112 poiché l'ex coniuge stava cercando di abbattere la porta di casa a pugni e spallate. I carabinieri immediatamente intervenuti hanno sorpreso l'uomo ancora sul pianerottolo, lo hanno immobilizzato e gli hanno trovato addosso un coltello di grosse dimensioni. Il soggetto non è riuscito a dare ai militari alcuna giustificazione sul possesso dell'arma bianca e ha dichiarato che avrebbe voluto solo un chiarimento con la ex che in passato lo aveva già denunciato per atti persecutori. Grazie a tutti.